È stato un grandissimo privilegio essere qui con voi alla conferenza, ed è sempre una gioia per me essere in Italia, ma soprattutto quando posso stare qui con mia moglie. Quest'ultima sessione sarà soltanto un punto d'esclamazione riguardo tutto ciò che è stato detto nella conferenza stessa. Noi passeremo il nostro tempo in Romani capitolo 12, gli ultimi versetti nel capitolo, versetti da 14 a 21. In molti modi questo è il riassunto dal Nuovo Testamento riguardo tutti quei principi della consulenza che avete appena sentito. Ho sentito delle dichiarazioni confondenti dette da alcuni lungo la via. Per esempio questa dichiarazione da qualcuno che ha un commercio, un commerciante. dicono qualcosa così, il commercio degli indumenti, moda, eccetera, è grandioso. Se soltanto non avessimo a che fare con i clienti, non ha senso, abbiamo bisogno dei clienti. O forse una persona single potrebbe dire il seguente. A me piacerebbe tanto sposarmi e fare una famiglia. Ma a me non piace stare intorno agli altri. Non ha senso. Non ha senso per un pastore dire il seguente. Io amo il ministero. A me non piacciono le persone. Io capisco il sentimento. Ma c'è un problema abbastanza evidente con questo tipo di atteggiamento. Non puoi essere un commerciante. Non puoi avere una famiglia. Non puoi essere coinvolto nel ministero. Se non sei intorno alle persone. Ma vogliamo ammettere qualcosa qui stamattina. Le persone possono essere una spina nella carne alcune volte. Le persone possono essere molto difficili. Hai avuto mai a che fare con una persona difficile? Qualcuno che ti ha creato tanta afflizione. Qualcuno che si è comportato ingiustamente con te. Qualcuno che ti ha maltrattato in qualche modo. E tu hai dovuto mai affrontare qualcuno molto critico nei tuoi confronti? Che ti ha attaccato. Che ti ha accusato falsamente. Sei stato mai deluso da qualcuno? Mentre rifletti su queste domande Forse ti è giunto un nome Forse più di un nome Forse qualcuno proprio ora Forse qualcuno nella tua famiglia Forse qualcuno con cui lavori O forse qualcuno nella chiesa La domanda è Come gestiamo persone del genere? Soprattutto se quella persona non conosce Cristo. Forse qualcuno che professa di conoscere Cristo Però si comportano da non credente. Come vuole che Dio rispondiamo? Qui ecco un approccio Semplicemente indietreggiare Cioè ci distacchiamo da quella persona Allontaniamo Se la persona è un non credente Tu puoi decidere di fare così Io avrò soltanto dei amici cristiani Io non interagirò mai con dei non credenti O se è qualcuno che semplicemente professa Cristo Ma comunque ci crea dei problemi Io potrei dire Non parlerò mai più a una persona del genere Il problema è che questa non è una risposta biblica Certamente per quanto riguarda i non credenti Dobbiamo stare attenti a non essere influenzati da loro Ma l'essere separati dal mondo Non è la stessa cosa ad isolarci dal mondo Dobbiamo interagire con le persone nel mondo La scrittura ci chiama a penetrare questo mondo con la luce Quindi dobbiamo essere circondati da non credenti E poi ci sono quelle persone dove stai sempre chiedendoti Ma sono veramente credenti o non lo sono? Dobbiamo anche essere circondati da loro Ma alcuni saranno molto più difficili del normale Dio ci ha donato istruzione nella sua parola Per come affrontare persone difficili nella nostra vita E un passo che ci è di grande aiuto è il passo di stamattina Capitolo 12 di Romani Nel senso più generale Ha a che fare con il tema del cristiano E come vive la sua vita Come vivere la nostra vita affinché sia chiaro che noi amiamo Cristo E siamo seguaci di Cristo Il versetto 9 dal versetto 9 fino alla fine Specificamente ci insegna come applicare tutto ciò nel reparto delle relazioni e dei rapporti tra di noi Ma io credo quello che ritroviamo qui riguarda due categorie di rapporti Nei versetti da 9 a 13 Abbiamo delle responsabilità come credenti Cioè come relazionarci agli altri nel corpo di Cristo Ma al versetto 14 C'è una transizione E istruzione sul come andare d'accordo Come interagire Come rispondere A persone più difficili E perciò abbiamo una leggera modifica nel testo E io sono convinto che la prima applicazione principale È come andare d'accordo con i non credenti Ma alcune volte quella persona difficile professa di conoscere Cristo Noi poniamo il dubbio Dubitiamo di questa professione delle volte Se qualcuno è un vero credente E vivono nel peccato non ravveduto Abbiamo istruzione da altre parti della parola di Dio Per come specificamente indirizzare questo tipo di vita Per esempio l'istruzione classica deriva da Matteo capitolo 18 Per quanto riguarda la disciplina della Chiesa E poi in Galati capitolo 6 Ritroviamo aiuto Nell'atteggiamento da mostrare E come aiutare in questi casi Ma anche se il nostro passo oggi Ha a che fare maggiormente con non credenti I principi sono molto più elaborati ed ampi Possono questi principi Essere applicati anche ad altri credenti Quando questi credenti Si comportano in una maniera molto difficile Forse sono testardi Forse a loro manca grazia nel loro comportamento In altre parole Se questi credenti Si comportano da non credenti Io credo che L'istruzione che ritroviamo qui Ci aiuterà ad affrontare tutte queste situazioni Quindi chiameremo la nostra sessione il seguente Le chiavi per affrontare persone difficili Leggiamo i versetti da 14 a 21 Benedite quelli che vi perseguitano Benedite e non maledite Rallegratevi con quelli che sono allegri Piangete con quelli che piangono Abbiate tra di voi un medesimo sentimento Non aspirate alle cose alte Ma lasciatevi attrarre dalle umili Non vi stimate saggi da voi stessi Non rendete a nessuno male per male Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini Se è possibile Per quanto dipende da voi Vivete in pace con tutti gli uomini Non fate le vostre vendette, miei cari Ma cedete il posto all'ira di Dio Poiché sta scritto A me la vendetta Io darò la retribuzione, dice il Signore Anzi Se il tuo nemico ha fame Dagli da mangiare Se ha sete Dagli da bere Poiché facendo così Tu radunerai Dei carboni Accesi Sul suo capo Non lasciarti vincere dal male Ma vinci il male Con il bene Ecco tutto ciò che ho Ecco il mio sermone Il mio messaggio Avete delle domande? No, vogliamo vedere Cinque chiavi Per affrontare Persone difficili Sapete perché vi elenco Il numero di queste chiavi? E per darvi speranza Che c'è un inizio E una fine E possiamo tracciare il nostro progresso Alla fine E io vi avviso Queste chiavi Rappresentano un metro di misura Molto alto E sono molto difficili Da applicare Nelle nostre proprie vite Quindi se non li volete ascoltare Potete alzarvi e andarvene ora E l'ultima occasione Che vi do Va bene Allora Allacciate le cinture Numero uno Chiave numero uno Cerca di essere Una benedizione A loro Per loro Intendo La persona O le persone difficili Versetto 14 Versetto 14 Notate Dice Benedite quelli che vi perseguitono Benedicili Non 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 Bestemmiare O non 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 maledire Grazie Parliamo della persecuzione La persecuzione Può assumere Variate forme Può prendere la forma Del malinteso O forse qualcuno Che ti respinge O Abuso verbale Forse qualcuno Che prende addirittura Azione legale Contro di te Anche l'uso di violenza E quella persecuzione Può derivare Da un non credente In famiglia propria Un vicino di casa Qualcuno con cui Lavoriamo Una persona Non salvata Non credente Nella chiesa Un membro della chiesa Che è arrabbiato Con noi Forse un membro Che è disturbato Da qualcosa Quando riceviamo Quest'ira Come rispondiamo Dice Benediteli È molto difficile C'è qui un gioco Di parole Molto interessante E ritorna Al versetto 13 Al versetto 13 Ci viene insegnato Esortato Di esercitare L'ospitalità È lo stesso verbo Che viene tradotto Persecuzione Nel nostro versetto E vuol dire Ricercare qualcosa Perseguire qualcosa Ha appena detto Persegui L'ospitalità E si Di benedizione A coloro Che perseguitano Te Ecco Come può Sentirsi O assomigliare Cioè E come Persone Che vengono Per aggredirti Sembra O assomiglia A questo Cioè È come se Dio Avesse messo Qualche persona O delle persone Su questa terra Per causare A te Afflizione Dolore È lo scopo Il scopo intero Loro Per essere Su questo pianeta È come se Ti stanno Perseguitando E Naturalmente La reazione Istintiva È di Vendicarti Dio sta dicendo Cambia la tua Prospettiva Invece di Concentrarti Su quello Che stanno Facendo Loro A te Concentrati Su quello Che tu Puoi fare A loro Forse Penserai Va bene Io mi Concentrerò Su quello Che posso Fare A loro E io Ci penso Molto Io Costantemente Penso A quello Che gli Posso Fare Però Qui Nella parola È qualcosa Di positivo È come Essere Uno strumento Di benedizione E non Di maledizione A loro Sapete Il Signore Ha insegnato La stessa cosa In Matteo 5 44 Amate I vostri Nemici E pregate Per Coloro Che vi Perseguitano Quindi L'essere Di benedizione All'altro Inizia Con la propria Volontà Di pregare Per quell'altra Persona E anche Pregare Che la benedizione Di Dio Possa Essere Riversata Su di loro Addirittura Gridare A Dio Chiamare Dio A benedire Quella Persona Mi fa pensare A Stefano Il primo Martire Atti Capitolo 7 Versetto 60 Lui Gridò Ad alta Voce Signore Per favore Perdona I loro Peccati E dunque Io credo Che inizia Nel pregare Per loro Pregare Secondo Questo Modo Ma va Oltre Questo Cerca Si cerca In più Di fare Del bene A loro Non vogliamo Pregare Una cosa E fare L'opposto Quindi Quella persona Di cui Il nome Ti è Sorto In mente Al quale Tu stai Pensando Adesso Andiamo Dai Giriamo Facciamo Un giro Di ogni Persona Qui E dite Il loro Nome Pubblicamente Lo mettiamo Qui in alto Sullo schermo Lo proiettiamo La domanda La domanda è È il tuo obiettivo Il tuo obiettivo È di essere Di benedizione A loro Tu vuoi anche Pregare Sei disposto A pregare Che Dio Li possa Benedire Tu puoi dire Ma io È da tempo Che sto pregando Per loro Ma dei salmi Imprecatori No no Questa è una Preghiera Diversa Che ti sto Chiedendo Di pregare Quindi Chiave Numero uno Cerca Di essere Di benedizione A loro Non di maledizione Va bene Ultima occasione Puoi alzarti Adesso Dalla sedia E lasciare La stanza Ci sono Quattro Altre chiavi Quindi Chiave Numero due Impara Ad empatizzare Con loro Versetto 15 Rallegratevi Con quelli Che sono Allegri Piangete Con quelli Che piangono Non c'è Distinzione Qui In altre parole Il filo Conduttore Non si interrompe Qui Tra il versetto 14 E 15 Stiamo parlando Delle stesse persone In sostanza Coloro che ci Perseguitano In Alcune Circostanze Sono le persone Che hanno Bisogno Della Nostra Empatia Che cos'è Empatia E la capacità Di Identificarti Con Il tuo Prossimo Identificarti Da vicino Con il tuo Prossimo L'abbiamo Appena sentito Questo Principio Dal libro Di Job E scegliere Di permettere A ciò Che è avvenuto Nella vita Dell'altro Cioè Ciò Che è accaduto Nella vita Dell'altro Tocca Anche noi Ci sono Molte Esperienze Che noi Condividiamo Con tutti Gli uomini Non importa Chi sono E questi Sono Potrebbero Essere O agire Come punti Legittimi Di contatto E rapporto Con loro Le cose Che sperimentiamo Nella vita Sono occasioni Opportunità Di costruire Dei ponti Per sviluppare Dei sani Rapporti Con loro Per raggiungerli Loro Sperimentano Momenti Di gioia E noi Sperimentiamo Momenti Di gioia Loro Sperimentano Momenti Di tristezza E tragedia Anche noi Quindi Nonostante La circostanza Di vita Noi possiamo Addirittura Imparare Ad Empatizzare Con loro Io credo Che ci aiuta Qui nel Considerare L'opposto Di ognuno Di queste idee Sapete Qual è L'opposto Dell'allegria O del Rallegrarci Con qualcun altro In questo contesto Gioire O Rallegrarci Con l'altra persona Cioè Abbracciare La gioia Dell'altro L'opposto È D'essere Pieni D'invidia Invece Di gioire Nella Prosperità Dell'altro Noi siamo Ripieni Di gelosia E Qual è L'opposto Di piangere Del pianto Nel momento Della distretta Dell'altro E Trovare Proprio La nostra Delizia Felicità Nella distretta Dell'altro Noi siamo Contenti Felici Che loro Soffrono Tutti questi Esempi Che rappresentano L'opposto È Radicato In qualcosa Di molto Antico Si chiama L'egoismo Il motivo Per il quale Noi Non Empatizziamo Con gli altri Per via D'abitudine E perché Siamo Egoisti Non vediamo Gli altri Come Più Importanti Di noi Stessi Perciò Siamo Invidiosi Quando vediamo Che Fanno Ricevono Del bene E Siamo Contenti Felici Quando Vediamo La loro Sfortuna Per fare La cosa Giusta Ci Vuole Un impegno Da parte Nostra Ma se Il tuo Obiettivo Riguarda La prima Chiave Cioè Essere Di Benedizione A loro In più Dunque Hai un Desiderio Di imparare Ad Empatizzare Con loro Pensateci Qual è Il più Difficile Dei due Il gioire O il piangere Io Penso che Sia più Facile Piangere Quando Loro Piangono Che gioire Quando Loro Gioiscono Anche la persona Più difficile Nella nostra Vita Che se Stanno Veramente Soffrendo I nostri Cuori Si Ammorbidiranno Verso Di loro E noi Cercheremo In qualche Modo Di consolarli Non è Così Facile D'altro Canto Congratulare Qualcuno Quando È Prosperoso Credo Che Questo Serve Ancora Di più A lottare Contro Il nostro Egoismo Ma Il punto Elementare È questo Dimenticando Noi Stessi Ci Mette In grado Di Svolgere Ognuno Di questi Sforzi O compiti Versetto 16 Continua Questo Stesso Pensiero L'Empatia O la simpatia Che viene Richiesta Al versetto 15 È possibile Soltanto Se Tra di noi Abbiamo Un medesimo Sentimento E quindi Lo dice In questo Modo Al versetto 16 Paolo Abbiate Tra di voi Un medesimo Sentimento Siate Dello stesso Pensiero Della stessa Mente Letteralmente Non pensarti Al di sopra Superiore All'altro Non pensarti Elevato O più Elevato A livello Di pensiero E mentalità Rispetto A loro Ma invece Dice Avvicinati Identificati Con gli umili Quelli Bassi Il punto Riguarda L'umiltà Il punto È Non essere Egoista E questo Rientra Nell'insegnamento Di Paolo Che ritroviamo Proprio Al versetto 3 Indietro E lui Dice Lì Non Stimatevi Più Saggi Di Quello Che Veramente Siete Perciò Non pensarti Meglio O superiore Dell'altro Non importa Chiunque sia Quella persona Sii pronto A raggiungere Chiunque Che loro Ti vogliono Del bene O non Mostragli Una preoccupazione Genuina E l'ultima parte Del versetto 16 Semplicemente Accentua Questo Pensiero Non stimarti Così Saggio Ai tuoi Propri Occhi Noi Non siamo Migliori Di quest'altra Persona Alcune volte Io li chiamo Persone Irregolari Sono persone Irregolari Nella mia vita Ricercali Le persone Difficili Non Evitarli E questo è qualcosa Che va Oltre Ricercali Coltiva Un rapporto Con quella Persona Difficile Affinché tu Possa Osservare Queste esperienze Questi loro Atteggiamenti Ed entrare Proprio Immedesimarti Nella loro Vita Stessa Ecco ciò Che ci aiuta Nel fare Così Pensate Alle persone Con cui Ha avuto A che fare Gesù Anche di più Pensate Alle persone Che salva Gesù Che tipi Di persone Persone Irregolari Persone Difficili Come Te E come Me Terza Chiave Non potete Andarvene Adesso Dobbiamo Finire È troppo Tardi Avete Perso L'opportunità Di andare Via Numero Tre Mantieni Una buona Reputazione Davanti a Loro Mantieni una buona Reputazione Davanti a Loro Un versetto 17 Non rendete A nessuno Male Per male Naturalmente Noi Sperimenteremo Subiremo Il male E la tendenza E la tendenza A rivendicarci Fare le nostre Vendette È naturale Se stiamo stati Feriti In qualche Modo Se stiamo Stati Frodati In qualche Modo Se siamo Stati Delusi Ma questa è una Risposta Mondana Carnale Infatti Chiamiamola Questa E semplicemente Non è una Risposta È una Reazione E reagire A quello Che fanno Gli altri Se tu reagisci A quello Che fanno Gli altri Sempre Tu Vive La tua Vita Sotto Il controllo Degli altri E questo È veramente Il problema Che affrontiamo Noi Quando abbiamo A che fare Con le persone Difficili Il nostro Orgoglio Facilmente Viene ferito E quindi Reagiamo Alle cose Che dicono E alle cose Che fanno Io credo Che a livello Pratico La reazione È il problema Più grande Nei nostri Rapporti Conflittuali È definitivamente Un problema Nel matrimonio Ma anche Nelle amicizie E nei rapporti Tra membri Di chiesa Il problema È che tu Sia Troppo Sensibile Facilmente Viene offeso Siamo così Suscettibili All'offesa Che subito Rispondiamo Con amarezza Noi rispondiamo Noi rispondiamo Con risentimento Contro Qualcun altro È come Un gioco Di ping pong Colpisci la palla Dall'altra parte La pallina La pallina Viene colpita Dalla parte tua E la pallina Va avanti Avanti indietro Avanti indietro Invece di reagire A noi qui Dal passo Ci viene chiamato A prendere Un approccio Completamente diverso Un approccio Deliberato Affinché la nostra Reputazione Sia una Di pietà Ed ecco Il significato Del resto Del versetto 17 Paolo dice Fate la cosa Giusta E il verbo L'ilazione Ci porta Veramente A ponderare In altre parole Pensa A fare La cosa Giusta In altre parole Impegnati Pensaci Prima Prima Che fai La cosa Giusta Da parte Tua Mettici Il tuo Impegno Per fare Ciò che è giusto Davanti a tutti Gli uomini Il bene Io credo Che l'idea È questa Cioè Fare del bene Davanti a tutti Gli uomini È un atteggiamento Che dobbiamo Mostrare E vivere Convivere Con ogni giorno In altre parole Deve essere Deliberato Un piano Pianificato Cioè Fare Del bene Fare il bene Fare la cosa Giusta Fare è una parola Che vuol dire Qualcosa di Onorevole Qualcosa di Bello Qualcosa Giusto Nel senso Appropriato E come L'applichi Dipende Dalla Categoria Sott'occhio Sotto Discussione Diciamo Il versetto In altre parole Ci sta dicendo Non importa La categoria Della vita Dobbiamo guidare Secondo il nostro esempio Con la nostra vita Esemplare Nel fare Il bene Però dice Davanti Agli occhi Degli uomini In altre parole Dobbiamo essere Conosciuti Riconosciuti Da loro Come Un certo Tipo Di persona Loro Ci riconoscono Come persone Che perseguono L'eccellenza In ogni Categoria Della vita Perciò Questo Parla Della nostra Testimonianza Agli occhi Loro E perciò Che ho chiamato La chiave In questo modo Osservando Una buona Reputazione Davanti Agli altri Se noi Viviamo Soltanto Sulla base Della reazione A qualcosa Che dicono Gli altri Nei nostri Confronti Questo E come Aprire La porta A tanti Altri Peccati Nella nostra Vita Tutti Tipi Di Comportamenti Non Cristiani O Atteggiamenti Da non Credente Quindi quando Noi Reagiamo Abbiamo perso La nostra Testimonianza E questo Non Vuol dire Che siamo Schiavi All'opinione Pubblica Non è la stessa Cosa Di uno Che prova La paura Degli uomini Questo riguarda Proprio Accurare Cioè Questo Riguarda Proprio Avere A cuore La nostra Propria Testimonianza Davanti Agli altri La nostra Reputazione O testimonianza Per i meriti Del Vangelo Noi proclamiamo Il Vangelo Ma viviamo Le nostre vite Alla luce Del Vangelo E vogliamo Che gli altri Secondo La grazia Di Dio Possono Osservare E prendere Nota Della nostra Vita Evangelistica Gesù L'ha detto In questo modo In Matteo 5 Che la vostra Luce Risplenda Davanti Agli uomini Affinché vedano Le vostre Buone opere Perché Perché Glorificano Il tuo Padre Celeste Che è Nei cieli Tu dovresti Guardare Più tardi Questo versetto Seconda Corinzi 8 21 Dice Qualcosa Di simile Fate Ciò Che è Onorevole E Lo stesso Pensiero Presente Nel nostro Versetto Fate il bene Non soltanto Negli occhi Di Dio Ma anche Negli occhi Degli uomini Non perché Possiamo Impressionarli Della nostra Bontà Vogliamo Semplicemente Essere Esempi Della Somiglianza Di Cristo Quarta Chiave Attivamente Ricerca La pace Con loro Attivamente Ricerca La pace Con loro Stiamo parlando Di persone Difficili Versetto 18 Se è Possibile Dice Il versetto 18 Per quanto Dipende Da voi Se è Possibile Siate In pace Vivete in pace Con tutti Gli uomini Non è L'unico Luogo In cui La scrittura Ci insegna Questo Principio In ebrei 12 Versetto 14 Dice la stessa cosa Perseguite Ricercate La pace Con tutti Gli uomini Questo È il desiderio Di Dio Per il suo Popolo Ma qui In romani 12 Abbiamo questa Qualifica O precisazione Se È Possibile E questo versetto Notate Il suo Realismo Forse Forse Non sarà Possibile Vivere in pace Con l'altro Perché La pace Richiede Tutte e due Le parti Per definizione Un rapporto Pacifico Non può Dipendere Soltanto Da una Parte Perciò Con tristezza Diciamo E dobbiamo Riconoscere Che ci sono Delle circostanze Dove Mantenere La pace È impossibile Non possiamo Compromettere La verità Non possiamo Violare Il principio Della purezza Non possiamo Condannare Non possiamo Condonare L'ingiustizia Non possiamo Sacrificare La nostra Fedeltà A Dio Quindi non dice Ricercate la pace A qualsiasi Prezzo Ma all'eccezione Di tutte Quelle eccezioni Il nostro atteggiamento Deve essere Il seguente Siamo in grado Di Sforzarci In modo Grandissimo Affinché Possiamo Edificare Dei ponti Di pace Nelle vite Di coloro Addirittura Coloro Che ci odiano Coloro Che sono Addirati Nei nostri Confronti Coloro Che ci deludano Il versetto Dice Riguardate Per quanto Dipende Da voi Quindi Consideriamolo In questo modo Se la conclusione È che la pace Non è possibile Accertati Si sicuro Che tu Non sei L'impedimento Alla pace Assicurati Che tu Hai fatto Tutto quello Che dipende Da te Per ricercare La pace E per Osservare La pace Con quell'altra Persona E questo È l'unica Cosa Al quale Noi possiamo Controllare La nostra Parte L'ultima Chiave Ora Avete Tanta Speranza Siete Arrivati Alla fine Io sento Il termometro Della speranza Che è Crescente Quinta Chiave Sostituisci La vendetta Con la gentilezza Verso di loro Sostituisci La vendetta Con la gentilezza Verso di loro Va bene Io riassumerò Tutti i cinque Ecco Siate pronti L'ultima volta Che lo farò Cercate di essere Di benedizione A loro Imparate Ad empatizzare Con loro Osserva Una buona Reputazione Davanti A loro Attivamente Ricerca La pace Con loro Ora Sostituisci La vendetta Con la gentilezza Verso di loro Versetto 19 Deriva Da Deuteronomio Capitolo 32 Perciò Paolo Dice Non fate Le vostre Vendette E questa È sempre Una tentazione Potenziale A noi Se qualcuno Ci sta Commettendo Un'ingiustizia Sapete Occhio Per occhio Dente Per dente No 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 Il punto Del versetto Qui è Questo È il principio E l'opera Di Dio Questa È la sua Prerogativa E lui Non ha Nessuna Intenzione Ad abbandonare I suoi diritti Alla vendetta A noi Vedete La sua Ira È perfetta La nostra Ira Sapete Scorre Da Sentimenti Personali Noi Siamo Offesi Noi Siamo Feriti Noi Siamo Disturbati Noi Siamo Frustrati Ma Quando Dio Mostra La sua Vendetta Verso Male Lo fa Con perfetta Giustizia Lo fa Con perfetta Equità Quindi Quello che ritroviamo qui Ha molto senso Dunque Lasciate A Dio La vendetta Lascialo a Dio Letteralmente Il linguaggio Qui È Molto Interessante La traduzione Che io Ho Dice Qualcosa Come Cedete Il posto All'ira Di Dio Ma Letteralmente Significa Questo Togliti Di Mezzo Tu Sei Nella Via Di Dio Spostati E Lascia Che passi L'ira Di Dio Perché Lui È Molto Più Bravo Di Noi Ad 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 Come Lui Svolge O Sfoga La Sua Ira Dipende Da Quando Lui Decide Di Agire Di Nuovo Dipende Da Lui Ma Lui Agisce Sempre Secondo La Sua Perfetta Giustizia Quindi Non Ripagare La Persona Male Per Il Loro Male Tu Devi Ripagarli In un Modo Diverso Quindi C'è Una Retribuzione Da Dargli Versetto 20 Se il tuo Nemico Ha fame Dagli Da Mangiare Se Ha Sete Dagli Da Bere E Notate Il Contrasto Se Invece Di Quelle Cose Il Tuo Compito È Qualcosa Di Diverso In Altre Parole La Vendetta Non È Compito Tuo Questo È Il Nostro Compito In Maniera Porla In Maniera Di Principio Tu Devi Trovare Dei Modi Concreti O Tangibili Per Essere Gentile E Svolgere Un Ministero Di Benedizione Nella Vita Dell'altro Maniere Tangibili Di Raggiungere I Loro Bisogni Lo Possiamo Dire In Un Altro Modo Dobbiamo Ucciderli Ma Ucciderli Di Gentilezza E Questo È Il Punto Di Bere E Di Mangiare Bere Credo Significa Semplicemente Dell'aiuto Della Benevolenza Concreta E Notate Il Risultato Di Questa Gentilezza Tu Raduni Dei Carboni Accesi Sul Loro Capo Noi Sappiamo Che ci Sono Variate Interpretazioni Qui Io Vi Darò L'interpretazione Giusta Soltanto Per Facilitare Il Vostro Compito Io Credo Che Questa La migliore Interpretazione Il Termine Carbone Simboleggia Qualcosa E Quel Bruciore Quelle Fiamme Che Bruciano Di Vergogna E Contrizione Questo Fa Si Che Il Tuo Nemico Si Vergogna Del Suo Agire E Probabilmente Lo Porta Al Ravvedimento Dobbiamo Radunare Tutte Queste Buone Opere Che Vuol dire Molto Di più Di Semplicemente Stringergli La Mano La Domenica Mattina No Li Dobbiamo Uccidere Di Gentilezza E Così Il Risultato È Di Aggiungere Al Di Sopra Di Loro Questi Carboni Che Li Portano A Vergognarsi È Molto Difficile Io Vi Ho Avvisato Di Io Vi Ho Dato L'opportunità Di Lasciare Questa Sala È Molto Difficile Da Sentire Ci Vuole Tanta Umiltà Ci Vuole Tanta Pazienza Con Le Persone Perché Ci Sono Tante Delusioni Lungo La Via Nel Ministero E Io Credo Di Novo Che Si Assaggio Ricordare L'istruzione Di Paolo In Galati Io Credo Sia Galati Non Stancarvi Nel Fare Il Bene Noi Ci Stanchiamo Di Fare Il Bene Ma Se Facciamo Così Ci Avrà Un Impatto Sull'altro Ora Vi Devo Confessare Qualcosa Potrebbe Sciogliere Il Loro Cuore Può Avere L'effetto Opposto Li Può Indurire Ancora Di Più Ma Vedete Questo Non Ha Importanza Tutto Ciò Che È Importante Tutto Quello Che È Importante E Che È La Cosa Giusta Da Fare È Molto Semplice Riassumere Queste Cinque Chiavi Perché Il Versetto 21 Lo Fa Per Noi Credo Che Le Cinque Chiavi Vengono Riassunte In Questa Conclusione Potentissima Non Lasciarti Vincere Dal Male Ma Vinci Il Male Con Il Bene Ecco Come Noi Vinciamo In Tutte Queste Circostanze Difficili Se Noi Non Viviamo Queste Chiavi L'altra Persona Guardate Vince Semplicemente Per dirlo Con Tanta Schiettezza Loro Hanno Vinto Perché Perché Loro Ci Hanno Discesi Ci Hanno Portati Giù Al Loro Livello Si Basso Perciò Per essere Vinto Dal Male Vuol dire Che Che Tu Sia Sopra Sopra Fatto Dal Male Che Loro Stanno Commettendo E Incominciamo A comportarci Ad 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 Abbracciare Atteggiamenti E Azioni Che Non Sono Simili A Cristo E Noi Siamo Diventati Il Male E Il Nostro Male Fa Più Male A Noi Che Il Loro Male Ecco Il Punto Negativo La Parte Negativa Di Questo Riassunto Ma C'è Un Passo Molto Positivo Qui Vinci Il Male Con Il Bene Vai Sull' Offensiva E Al Tempo Presente Questa Dovrebbe Essere La Nostra Abitudine Regolare Forse Stai Ascoltando Tutto Questo Ci Rifletti Stai Pensando A Quella Persona Difficile Forse Stai Pensando A Tante Persone Difficile Nella Chiesa E È Facile Pensare Questo Io Sto Ascoltando Questo Che Sta Dicendo Questo Tizio Ma Non Funzionerà Ma Dipende Tutto Su Qualcosa E Dipende Tutto Sul Come Tu Definisci La Parola Funzionare O Funzionerà Se La Tu Funzionerà Con Successo Vuol dire Che Fermerà Sempre L'altro Che Ti sta Facendo Del Male Dal Commettere Il Male Che Questo Fermerà Sempre Quella Persona Che Ti Sta Infastidendo Allora Tu Hai Ragione Non C'è Nessuna Garanzia Che Questo Agire Funzionerà Così Ma C'è Una Definizione Molto Più Significativa Del Termine Funzionare E La Definizione È La Risposta È Cosa Funziona Per Glorificare Dio Cioè Funzionare Al fine Non di Fermare L'altro Ma di Far Piacere Al Signore Nonostante Quello Che Dovesse Fare L'altro O Non Fare Secondo Quest'altra Definizione Sì Tutte Queste Chiavi Funzionano 100% Delle Volte Fa Piacere A Dio Ecco Una Motivazione Molto Utile Ricordati Quel Tipo D'amore Che Dio Ha Manifestato Verso Di Noi Come Peccatori Romani 5 Versetto 10 Mentre Mentre Eravamo Ancora Nemici Siamo Stati Riconciliati A Dio Per mezzo Di Cristo Quindi Quando Noi Viviamo Queste Verità Ci stiamo Comportando Come Dio Adesso Sul Mettiamolo A livello Pratico A livello Pratico Voglio Semplicemente Dire Non vuol dire Che noi Non parliamo Mai Direttamente Alle persone Riguardo Questioni Difficili Possiamo Fare Così Dovremmo Parlarne Delle Sfide Che esistono In alcuni Rapporti Prima Che indirizziamo Però Queste Sfide Se stiamo Cercando Di vivere Questi Principi A quel Punto Abbiamo Una Coscienza Chiara Quando Andiamo Da loro Con Delle Parole Che Rappresentano Un Potenziale Affronto Sapete Alcuni Dei Pericoli Che esistono Quando Impariamo Dei Principi Del Genere Dio Ci Manda Delle Persone Difficili Per Metterci Alla Prova Se Abbiamo Capito Bene Forse Avrei Dovuto Avvisarvi Prima Di Ascoltare Questo Messaggio Però Sapevo Che Nel Dirvi Questo Sareste Tutti Andati Via Quindi Devo Essere Trasparente Dio Vi Manderà Delle Persone Adesso Che Sono Proprio Difficili Siete Pronti Forse Adesso Conviene Pensare Al Tipo Di Persona Che Proprio Ti Irita Affinché Tu Sia In Guardia Riguardo Il Tuo Cuore Verso Questo Tipo Di Persona Abbi Le tue Antenne Accese Che È Possibile Che Ti Ritrovi A Dover Parlare O Ritrovarti Con Una Persona Che Ti Irrida E Senza Dubbio Investiga Il Tuo Cuore Affinché Tu Non Ti Stia Comportando Da Uomo Orgoglioso E Confessa Ravvediti Da Queste Cose Chiedi Chiedi L'aiuto Del Signore E L'umiltà Da Parte Sua Nel Farti Comportare Così Portarti A Questo Comportamento E Forse Dovresti Scegliere Una Chiave Alla Volta E Incomincia Ad 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 Questa Chiave Io Sinceramente Ho Difficoltà Nel Applicare Cinque Cose Alla Stessa Volta Però Posso Scegliere Una E Incomincio A Crescere In Quel Reparto E Poi Scelgo Un Altro E Io Concluderò Continuo Sempre A Scendere L'aereo In Questo Messaggio E Poi Ripartire È Una Brutta Cosa In Sermoni Ma Mi Sono Ricordato Un'altra Cosa Assicurati Che Tu Non Sia Dall'altra Parte Di Questo Assicurati Che Tu Non Sia La Persona Difficile Qui Questo Sarebbe Molto Triste Se Stiamo Nel Pensare A Qualcuno Il Nostro Nome Addirittura È Giunto A Noi Cioè Ci rendiamo Conto Che Noi Siamo La Fonte Di Frustrazione Ai Membri Della Nostra Chiesa Dire E fare Le cose Che Respingono Gli altri Da Noi Siamo Siamo Così Facilmente Offesi Da Tutto Siamo Così Rigidi E In questo Senso Siamo Una Depressione Nessuno Vuole stare Intorno A Siamo Eccessivamente Bisognosi Cambiamo E Non Comportiamoci Così Dunque Preghiamo Riguardo Tutte Queste Cose Padre Ti ringraziamo Per la Tua Parola Che ci insegna Chi Tu Sei Signore E quali Sono Le Tue vie Signore Ti Ringraziamo Che la Tua Parola Ci Dimostra Così Chiaramente Come Possiamo Vivere Per Farti Piacere Ma Padre Ti Confessiamo Ti Confessiamo Che Falliamo In Tantissime Vie E Padre Ti Ringraziamo Perciò Che Abbiamo Un Mediatore Perché In Cristo Signore Il Nostro Peccato Può Essere Perdonato Conoscere Cristo Vuol dire Che abbiamo Un motivo Uno scopo Alla Nostra Vita Perciò Ti Ringraziamo Perché Tu Sei Un Dio Di Perdono E Un Dio Di Pazienza Ora Mentre Torniamo A casa E Ritorniamo Ai Nostri Ministeri Aiutaci Preparaci Per Le Prove Che Avverranno Aiutaci A Vivere Applicare Le Chiavi E I Principi Alla Tua Parola In Ogni Categoria Della Nostra Vita Nel Nome Del Nostro Salvatore Amen Amen